Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, ragazzi in questo nuovo video vi spiego come fare uno screenshot su Windows 11 prima su Windows 10 bastava premere il tasto Windows, il tasto Start più Print, Print che sarebbe il tasto per la stampante ora visto che su Windows 11 non funziona più c'è un altro modo, quindi come potete vedere la mia tastiera quindi guardate bene la mia tastiera, premete tasto Windows più Shift, dicono maiusc ma è tasto Shift più S e poi esce tipo una schermata, questa qui, io faccio così, ho fatto lo screenshot, vado sugli screenshot ed eccolo qua vado nella cartella, apri cartella screenshot, ecco il mio screenshot quindi ripeto, tasto Start di Windows più Shift più S comincia ad oscurarsi così lo schermo, c'è un bersaglio, tu prendi quel bersaglio e cominci a trascinare, a evidenziare la parte che vuoi fare la foto, vuoi fare lo screen e si salva nella cartella degli screenshot ed eccola qua quindi se questo video vi è stato utilissimo vi consiglio di lasciare un like e di iscrivervi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao! Ciao!